Sulla fusione delle due società di gestione degli aeroporti di Olbi e Alghero, il Tribunale Civile si pronuncerà venerdì 8 settembre. I giudici saranno chiamati ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla Regione insieme al ricorso. Lo ha stabilito il giudice questa mattina, 29 agosto, dopo la costituzione in giudizio delle due società di gestione, che hanno presentato una trentina di pagine di memorie. Per questo il Tribunale ha deciso di concedere tre giorni di tempo alla Regione per presentare le sue note e ulteriori tre giorni a Sogeal e Cee Hazar per le contronotte. Il pronunciamento sulla sospensiva verrà dunque l'8 settembre. Lo scorso 1 agosto il giudice Enzo Lucchi non aveva ravvisato l'urgenza della decisione sulla sospensiva, senza sentire le parti e aveva quindi rinviato la decisione ad oggi. Oltre alla sospensiva, la Regione ha presentato un ricorso, sempre firmato dall'avvocato Gabriele Racugno e che invece seguirà una strada autonoma con prima udienza a gennaio 2024 davanti al Tribunale delle imprese di Cagliari.